Siamo con Santinelli, l'estremo della Bios, nonostante il migliore in campo, secondo me, non c'è presenza per demerito dei compagni, bensì è un'ottima prestazione, però non è bastata. Questa semifinale, insomma, ha visto poco protagonista, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Il primo tempo è andato tutto a favore per i grigionieri, poi te come protagonista e alcuni frangenti. Quindi come vedi questa partita? La vedi come me oppure? Sì, c'è questa descrizione, c'è questa analisi. Purtroppo ci mancava, è vero, purtroppo ci mancava chi ci segnava questa sera. Esatto. E il secondo gol è stata colpa mia, potevo farci qualcosa. Eh, ma ne hai selvati diversi. Eh, infatti, doveva andare così. Comunque loro sono forti e sono bravi. E meritano la vittoria. Per quanto riguarda il vostro campionato, vorrei raccontarci anche qualcosa da Bios, sempre tra i protagonisti, nonostante appunto, come dicevi, gli infortuni e tutto il resto. Eh, ci accontentiamo di essere andati fuori in semifinale a testa alta. Esatto. Non appuntavamo la coppa. Adesso puntiamo al play-off e dopo un grande campionato devi poter vincere e arrivare alla vittoria finale. E ti faccio in bocca al lupo e complimenti per la tua performance di questa sera. Crepi. Ciao.